Musica Ci sono tre premiazioni Allora abbiamo per prima il premio alla carriera poi il premio per la produzione e il premio per la regia Allora chi invitiamo? Invitiamo un attore a questo punto e qui con noi dall'Italia Roberto Carruppa Il premio per consegnare il premio Premio alla carriera Un po' di suspense Italia Io italianschi Italianschi Capire? Mussolini Io Mussolini Oraco Noi Grazie alla produzione, io volevo invitare al palcoscenico il critico famosissimo in Russia del cinema, Andrei Klafa. Premio Produzione al produttore e direttore generale della Società di Produzione del Centro Sperimentale di Cinematografia, Elisabetta Bruscolini. Volevo fare qualcosa di bello, non lo so, giapponese, sai, matematica, matematica giapponese. Ti ricordi? Certo che mi ricordano. Hai finito deficiente? Io ti sto antipatico, sì? No. Perché mai vuoi entrare a far parte di una squadra di ok? Non mi ha detto una parola. Aspetta, le stelle non si sbagliano. Agata, ti piace? No. Grazie, grazie, grazie per questo premio. È stato molto contenta perché è vero, negli ultimi anni non sono state molte le copie di produzione con la Russia. Noi abbiamo fatte due, abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene, abbiamo lanciato due registi, sempre Passo che è qua, e Valerio Mieli che ha appena presentato la legge al suo secondo film. Quindi speriamo, speriamo davvero di fare ancora tante cose insieme. Speriamo di una autrice, una star televisiva, a voi, Alice Lobanova. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. il premio Davies. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... ... ... Da 10 anni, che ho imparato per il vostro obiettivo, ho non costruito a fare una domanda. In un'università non poteva capire. Stare a cercare di me. Mi dobbiamo fare una carriera. D'accordo? Io sono molto felice, che voi stai nella mia famiglia. Io sono venuto a sottolineare. A presto! Quindi, mamma. Io sono appena che conosciuta con un bellissimo ragazzo. Sono contenta appunto di poter dire che Regione Lombardia anche come istituzione partecipa patrocinando questa iniziativa straordinaria perché è giusto che le istituzioni aiutino questo genere di manifestazioni, non soltanto che intervengano in tutti i settori culturali con incentivi finanziari, cosa essenziale perché purtroppo per fare queste manifestazioni servono anche quelli, ma anche con un sostegno e una vicinanza istituzionale che sia il segno di una volontà di promuovere cultura e di promuovere cultura cinematografica. I rapporti come è stato accennato tra Milano e la Russia sono molto solidi, con la funzionaria che mi ha accompagnato Mari Gabbazzani abbiamo sviluppato in questi anni le giornate di Mosca a Milano per esempio, nell'ultima edizione che abbiamo avvenuto un anno fa per il Consorato Generale della Federazione Russa ho avuto l'onore di partecipare in rappresentanza dei gruppi di Milano con il Consorato Generale della Federazione Russa a Milano. Io trovo che sia davvero importante avviare un festival del cinema russo qui a Milano perché c'è bisogno anche del crossover che è una tecnica che di solito conoscete in musica, io penso che può essere trasposta tranquillamente nel cinema perché c'è bisogno non solo di un mix di capitali ma un mix anche a livello narrativo, a livello di soggetti. Ma adesso siccome non possiamo più parlare di confini fissi, parliamo di intercultura, di scambio culturale e quindi è un'occasione di questo tipo per trattare soggetti nuovi.